I metti di cittadini, ci sarà al meglio un motorino per il trasporto di cittadini? E facciamo un appello, Valerio? Presente! Rubio? Presente! Tata? Presente! Present! Armandì? E' prego! E' prego! E' prego! E' prego! E' prego! E' prego! Il è riuscito a prendere il fumo! Go! 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 Eh oh! E' un po' E' un po'